Torna puntuale ogni anno l'appuntamento per tantissimi studenti, neodiplomati e non, del test d'ingresso alla Facoltà di Medicina. Quest'anno ha da affollare gli Atenei italiani per la prima prova oltre 67.000 studenti. A Napoli il numero di partecipanti è di circa 6.000 che da questa mattina hanno affollato il quartiere di Fuorigrotta, scenario del test nelle sedi di Monte Sant'Angelo per gli iscritti alla Federico II e del Palapartenope per gli iscritti all'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli. Tra gli studenti che si sono presentati questa mattina alle 8 c'è anche un signore che compirà 70 anni nel 2019. La data è unica per tutte le regioni italiane, i questionari sono gli stessi, le regole sono uguali per tutti i 67.000 candidati, ma c'è una cosa che continua a variare a seconda dell'Università in cui si decide di sostenere la prova, il costo del test. La prova sarà uguale in tutta Italia, 60 domande e risposta multipla su logica, matematica, chimica, fisica, biologia e cultura generale. La gradatoria sarà poi unica e nazionale, anche se ogni candidato ha dato la preferenza ad almeno 5 sedi in cui vorrebbe formarsi per raggiungere il proprio sogno e da cui dipenderà il punteggio del quiz. I posti da assegnare sono 400 per la facoltà di medicina e 35 per odontoiatria. Ansia, parecchio. Sei preparato? Sì, mi sono preparato tantissimo con simulazioni, studiando da solo, eccetera. Ora si trattano di una buona parte, 20 domande di logica, un'ottima conoscenza in chimica, fisica e matematica. Quindi una conoscenza a 360 gradi. Poi tutto può succedere, insomma, quindi ansia, preoccupazioni, però sta abbastanza tranquilla, poi bisogna vedere dopo come è la situazione, insomma. A tutelare gli aspiranti camici bianchi per eventuali ricorsi dopo il test d'ingresso, la Consulcesi. Ascoltiamo l'avvocato Cristiana Peghini. La Consulcesi innanzitutto si occupa della tutela del mondo medico ormai da 20 anni. Pertanto nella fattispecie tuteliamo anche gli studenti che accedono al test d'ingresso alla facoltà di medicina. Noi tuteliamo gli studenti che non dovessero ottenere l'ingresso alla facoltà tramite il ricorso dinanzi al TAR Lazio, ovviamente, laddove ovviamente si manifestano delle irregolarità o delle anomalie nell'ammissione al test.